oggi desidero provare a rispondere ad una domanda e la domanda è la seguente perché evitiamo il peccato cos'è che ci spinge a stare lontani dal peccato le risposte in questo caso possono essere due la prima può essere quella di dire io evito il peccato perché temo la punizione di dio l'altra risposta potrebbe essere io evito il peccato perché amo dio quindi tu che mi stai ascoltando perché eviti il peccato perché hai paura o perché ami nel vangelo secondo giovanni capitolo 14 versetto 15 sì il signore gesù dice se voi mi amate osserverete i miei comandamenti vedete che il motore che spinge il credente ad adempiere i comandamenti di dio e l'amore se voi mi amate osserverete i miei comandamenti quindi il motivo principale che dovrebbe spingere il credente ad evitare il peccato dovrebbe essere l'amore per dio quando ami gesù tu ami ciò che gesù ama e detesti ciò che gesù detesta quindi non diventa neanche gravoso mettere in pratica i suoi comandamenti perché in quel caso li lo stiamo facendo per amore quando invece la paura a motivarci cadiamo in uno stato di religiosità e diventa pesante vivere la vita cristiana se questa vita è dominata dalla paura se io sono motivato dalla paura io starò lontano dal peccato sotto sforzo eviterò il peccato ma lo eviterò a mala voglia se invece l'amore a motivare il mio cuore io starò ben volentieri lontano dal peccato perché so che quella cosa non piace al mio signore e se non piace a lui non piace neanche a me ecco perché il signore gesù disse che i suoi comandamenti non erano gravosi perché tutto gira intorno all'amore che abbiamo per lui se noi lo amiamo osserveremo volentieri i suoi insegnamenti se invece non lo amiamo allora diventa più faticoso osservare i suoi comandamenti con questo non voglio dire che avere un santo timore delle conseguenze del peccato sia sbagliato ma non deve essere questo il motivo principale che ci tiene lontani dal peccato perché se stiamo lontani dal peccato solo perché abbiamo paura delle conseguenze allora stiamo dimostrando di non amare Dio è saggio è saggio stare lontano dal peccato perché ha sempre delle conseguenze però il motore principale che ci deve spingere a stare lontani dal peccato deve essere l'amore per Gesù quando ami Gesù cominci ad amare quello che lui ama e cominci a detestare tutte le cose che egli detesta e allora non diventa difficile mettere in pratica la sua parola e per questo e per questo il Signore Gesù ci invita più di una volta nella sua parola a dimorare in Lui quando dimoriamo in Lui egli trasforma i desideri del nostro cuore trasforma i pensieri della nostra mente e questi desideri e questi pensieri cominciano ad essere poi in armonia con la sua volontà con i suoi desideri i suoi pensieri e allora vivere la vita cristiana poi non è gravoso diventa veramente una gioia un piacere l'altro requisito fondamentale che serve per osservare i suoi insegnamenti è la fede bisogna credere in ciò che egli dice se noi mettiamo la nostra fede nelle sue parole se noi crediamo che quello che egli dice è vero allora diventa più semplice osservare i suoi insegnamenti quindi servono questi due requisiti fondamentali l'amore e la fede se noi lo amiamo e ci fidiamo di Lui osservare la sua parola non è più un impegno gravoso ma qualcosa che cominceremo a desiderare con gioia Signore io faccio volentieri quello che mi dici perché ti amo faccio volentieri quello che mi dici perché mi fido di te quindi ognuno risponde nel proprio cuore a questa domanda che cos'è che ci spinge a stare lontani dal peccato la paura religiosa e basta o l'amore e la fiducia in Gesù e per Gesù che ciascuno di noi possa veramente innamorarsi sempre di più di Gesù e vedete amare Gesù non è difficile perché Lui è amabile più lo conosci Gesù più te ne innamori più ti innamori di Lui più desideri mettere in pratica quello che Lui dice ed ecco che l'amore e la fede ci portano poi ad essere dei credenti operanti l'amore per Gesù e la fiducia in Gesù fanno di noi dei credenti attivi perché se lo amo desidero osservare la sua parola se mi fido desidero osservare la sua parola allora cosa succede che divento un credente che mette in pratica la parola di Dio quindi un credente attivo operoso non un credente che vive nell'ozio tante volte si discute sempre sull'importanza delle opere bisogna fare le opere le opere sono importanti ed è tutto vero ma bisogna partire dall'inizio però come posso io compiere le opere che Dio ha precedentemente preparato per me sotto l'impulso della paura no deve essere l'amore l'amore e la fiducia fanno di me un credente che compie le opere che Dio ha preparato per me ed è questo il fondamento della vita cristiana l'amore per Gesù e la fiducia in Gesù questi due requisiti queste due colonne sono fondamentali ed è su queste che bisogna edificare la propria vita cristiana nel quotidiano quando lo amiamo e ci fidiamo mettiamo in pratica ed è tutto qua il segreto fratelli è tutto qua che ognuno di noi possa veramente innamorarsi sempre di più di Gesù fidarsi sempre di più di Gesù per diventare sempre di più dei credenti attivi e operanti nel campo del Signore amè